Il generale Toschi, oltre che essere un teatino, un teatino di eccellenza, come poc'anzi nella conferenza Stamba l'ho definito, ha un background professionale e di esperienza che lo porta alle più alte vette di eccellenza della nostra città. Non ci dimentichiamo che Chieti ha espresso negli anni e anche nei lustri precedenti tantissime personalità nel campo dello sport, dell'arte, della cultura. Il generale è l'espressione proprio del nostro ingegno, dell'ingegno teatino, della caparbietà, della professionalità. E quindi veramente io sono orgoglioso con tutta la mia amministrazione di dare a lui questo riconoscimento perché, posso dirlo, è uno di noi. Il generale Toschi ha rappresentato per le fiamme gialle una delle prime figure di vertice che provenivano dal corpo e che come tale si è fatto subito interpretare comunque di un'esigenza che aveva la nostra amministrazione di sentirsi più adeguata anche ai tempi che cambiavano attraverso l'utilizzo delle banche dati che il corpo aveva a disposizione e attraverso le quali ovviamente anche appunto grazie all'opera e all'intervento del generale Toschi ha fatto in modo che iniziasse la Guardia di Finanza ad utilizzare in una maniera massiccia l'attività di consultazione di queste banche dati proprio per cercare di individuare a tavolino quelli che erano gli indici di rischio che ci consentivano poi in maniera sempre più certa e soprattutto chirurgica aggredire quella che era la criminalità economico-finanziaria sul territorio.